Avvocato Luigi Mennella, candidato a sindaco del Comune di Tore del Greco per le prossime amministrative, qual è il suo progetto politico? Il mio progetto politico nasce dalla voglia di rimettersi in gioco di fronte a una città ormai abbandonata da 15 anni. Il mio lavoro è avvocato, ho il mio studio, sono anche consapevole di mettere un attimino da parte il mio studio, però c'è la necessità di scendere di nuovo in campo e il nostro appello è quello di mettere insieme tante persone, professionisti o non professionisti, ma gente che vuole bene la città per farla risorgere. Credo che sia venuto in momento, non è possibile più guardare la città e trovarsi immondizia da tutte le parti, guardare la città che alle 8 e mezza di sera non viva più perché non c'è più niente, non c'è attrazione. Questa è una città che ha una vocazione turistica, questa è una città che ha tante belle cose che bisogna soltanto valorizzarle. Teniamo un santo, non teniamo un turismo religioso, teniamo un sottosuolo fantastico da poter visitare, ma non teniamo un turismo di persone che vengono a vederlo, teniamo musei, teniamo conventi di ex cozzoccolanti che in questo periodo va sotto una petizione, ma che bisognerebbe secondo me recuperare, vedere come fare con la chiesa. Noi dobbiamo far risorgere questa città, riportarla al centro non solo del golfo di Napoli, ma riportarla al centro, dargli il ruolo che li spetta. Devo ringraziare le liste che mi sostengono, il nostro programma lo stiamo attuando, lo stiamo realizzando sul territorio, con le associazioni, con le categorie, con le persone, proprio in questo momento che sto parlando, nella stanza accanto sono uniti tantissimi giovani per parlare di ambiente. Questo è lo spirito con cui mi sono candidato, questa è la voglia di dare a questa città un contributo che possa essere non più un contributo per noi, ma per i nostri figli per il futuro. Al momento sono nove tra liste partiti e movimenti quelli che hanno risposto all'invito del PD. Sono movimenti a liste civiche alcuni partiti come il Partito Repubblicano, Articolo 1, anche i Verdi si sono aggiunti da poco, stiamo trattando ancora con tante altre persone che vogliono scendere in campo, che si stanno realizzando e costruendo liste. Quindi ci sono anche un cantiere ancora aperto. È un cantiere aperto perché noi vogliamo con gli altri creare un programma, un programma con la città, un programma che deve essere condiviso non solo tra i partiti, che questa è una cosa normale, ma soprattutto con la città. La gente deve ritornare ad essere protagonista nella casa comunale. Togliere l'immondizia è solamente ed esclusivamente un momento di ordinare amministrazione. Sviluppare la città, dare uno sviluppo alla città è sicuramente una cosa diversa, perché sviluppare una città significa dare tanto e tanto altro, economia, significa rimettere in moto la società, significa tante cose. Tre obiettivi e tre punti salienti del suo programma? Guardo, uno sicuramente è quello là di rendere, faccio un esempio, una città con ristoranti, con borghi. Noi teniamo per esempio il Corallo, ma non teniamo un borgo del Corallo. Noi se giriamo, andiamo in giro in tante altre città, dal Cristallo, di Murano, ci sono dei borghi dove si lavora. Quindi creare dei borghi in questo senso. Mi immagino ad esempio le piazzette storiche, invece di questa confusione che adesso regna dove non possono passare le persone, ma me ne immagino con i ristorantini, con i tavoli fuori, con la musica, oppure mi immagino una musica classica nel chiostro delle zoccolanti. Vi sto parlando non di cose impossibili, vi sto parlando di cose che esistono e basta solo dare il là per rimettere in moto. Io sono attualmente vicepresidente anche della Cori e mi sto molto battendo e stiamo già lavorando e credo che entro la fine dell'anno prossimo abbiamo completato i lavori che faranno confluire non più a mare le acque reflue, ma in un collettamento che va direttamente nella foce sano. Questo consentirà ad esempio la balneabilità eccellente. Stiamo bonificando di fatto il fiume Sarno che è un altro elemento che sicuramente contribuisce a rendere le acque ovviamente fino adesso inquinate, ma da qui al 2025 il cronoprogramma si sta rispettando le acque sicuramente balneabili. Ecco, far ritornare l'obiettivo, far ritornare i turisti a farsi il bagno al gioco vitoriale. Perciò io parlo di una città a vocazione turistica, parlo di una città che ha perso da 12 anni, da 15 a 13 anni, quando è la festa dei quattro attari, che è stata, diciamo, di chi è cittadino e chi ha vissuto tutto il greco, un po' il simbolo, un po' il vanto, diciamo, di questa città. Dobbiamo dare la mentalità ai nostri figli e al futuro di una città diversa. Questo è quello che dobbiamo fare. In chiusura ai telespettatori di Tivusiti, ma a tutti i cittadini di Torre del Greco, perché scegliere Luigi Mennilla? Non sto a me di dirlo perché scegliere Luigi Mennilla. Io sono uno che nella vita ha fatto tutto, sono uno che ha fatto l'operaio, è uno che adesso fa l'avvocato, ho rivestito l'antiduoli, ho l'esperienza, è un po' difficile parlare di se stessa, ma visto che lei mi ha fatto la domanda mi metta anche in imbarazzo, ma ho cercato di fare tutto e di cercare di fare bene. Io amo il mio lavoro e oggi affrontare la campagna elettorale, candidarsi a sindaco significa anche mettere da parte questa verità, ma se si tratta della mia città lo faccio volentieri e soprattutto, dicevo un amico il 23-24 di dicembre, dicevo guarda che ci sono tante persone, come avete notato nel periodo della vigilia, c'erano tante persone per strada, dico se noi ogni weekend facciamo stare queste persone abbiamo vinto, perché vuol dire che vengono le altre da fuori e vengono a dare qualche cosa a Torre del Greco. a Torre del Greco